Il mare di San Leone non è inquinato. Questo è quanto rilevato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Aspi di Agrigento, in seguito ai dati emersi dalle analisi delle acque dei giorni scorsi. Consequenza diretta, la revoca dell'ordinanza sindacale che vietava la balneazione nel tratto compreso il Lido Pubblica Sicurezza e lo stabilimento Aster. Secondo l'Azienda Sanitaria Provinciale, le analisi dei campioni d'acqua prelevati escludono la presenza di interococchi, mentre i valori relativi agli scherchi a coli sono nettamente inferiori ai limiti previsti dai tabulati ministeriali. I dati delle analisi di laboratorio del mare San Leonino sono stati trasmessi dall'Asp anche all'assessorato regionale territorio d'ambiente.